Sono oltre un centinaio di età compresa tra i 15 e i 17 anni i minori migranti non accompagnati sbarcati ieri nel porto di Napoli. Per loro il Comune ha messo in piedi una rete di solidarietà e di accoglienza che ha consentito di ospitarli in comunità convenzionate tra Napoli e l'area metropolitana, a Salerno e presso il centro polifunzionale San Francesco d'Assisi a Marechiaro. È qui che da ieri sera sono accolti una cinquantina di ragazzi per i quali occorrono abiti, scarpe e beni di prima necessità. Il Comune ha chiaramente riuscito immediatamente a mettere in moto la macchina, la macchina da un punto di vista di accoglienza istituzionale ma ha anche lanciato un appello alla città. E la città ha risposto immediatamente, ha lanciato un appello per fronteggiare insieme, ancora una volta insieme, un'emergenza che era quello appunto dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Siamo riusciti a raccogliere tanto materiale, anche materiale di consumo e abbiamo predisposto anche degli spazi per fare in modo che ci sia anche nei prossimi giorni la possibilità di utilizzare questi materiali. Chiaramente questo appello rimane aperto e quindi invitiamo anche a contattare i nostri servizi in maniera tale da fare delle raccolte anche mirate. L'appello alla cittadinanza è di offrire il proprio contributo partecipando alla donazione. È possibile farlo contattando il centro di accoglienza del Comune in discesa a Marechiaro al numero 081795 8180.